benvenuto in questo video oggi vi farò vedere come pulisco la porta del mio forno allora prima di tutto la porta c'è due gancetti 1 2 vorrei sganciare i primi gancetti anche secondo gancetti e poi chiude la porta o la prima che ho fatto io ho già fatto la pulizia dell'interno è tutto molto pulito ragazzi vi faccio vedere e voi guardate il vostro forno e lasciatemi un commento cosa ne pensate di questo video si è stato utile spero che sì la pulizia è una cosa molto importante principalmente dove si mangia